Passava il suo tempo in laboratorio. A Drouot diede intendere che voleva inventare una ricetta per l'acqua di Colonia, ma in verità sperimentava aromi del tutto diversi. Il suo profumo, quello miscelato a Montpellier, stava per terminare, sebbene lo usasse con molta parsimonia. Ne creò uno nuovo. Questa volta però non si accontentò più di imitare alla meno peggio l'odore fondamentale degli uomini, usando elementi combinati più o meno a caso, ma mise in gioco tutta la sua ambizione per crearsi un profumo personale o piuttosto una serie di profumi personali. Dapprima si fece un odore non appariscente, un abito profumato grigio topo per tutti i giorni, in cui l'odore umano di formaggio acido era ancora presente, ma si diffondeva all'esterno quasi soltanto come attraverso uno spesso strato di indumenti di lino e di lana messi sulla pelle secca di un vecchio. Con questo odore poteva mescolarsi tranquillamente agli altri. Il profumo era abbastanza forte da motivare l'esistenza di una persona dal punto di vista olfattivo e nel contempo abbastanza discreto da non disturbare nessuno. Con esso, Grenoy, non era del tutto presente in quanto a odore, tuttavia era pur sempre giustificato in misura estremamente discreta nella sua presenza. Una condizione ambigua che gli giungeva molto a proposito sia in casa Arnulfi sia nei suoi giri occasionali per la città. Certo, in qualche occasione quella Roma discreto era di ostacolo. Quando doveva fare commissioni per incarico di Druoth o voleva acquistare per sé da un commerciante un po' di zibetto, qualche granulo di muschio, poteva accadere che dal momento che nessuno lo notava o lo ignorassero del tutto non servendolo o se lo vedevano lo servissero in modo sbagliato o si dimenticassero di lui mentre stavano servendolo. Per simili occasioni si era preparato un profumo un po' più piccante con una leggera traccia di sudore, con alcuni angoli e spigoli olfattori che gli conferiva un aspetto più rude e faceva credere alla gente che andasse di fretta e che lo aspettassero a fare urgenti. Anche con un'imitazione del Laura Seminalis di Druoth che seppe fabbricare in modo incredibilmente somigliante, ungendo un pezzo di lino con una pasta di uova fresche, danitra e farina di frumento fermentata ottenne discreti successi quando si trattava di richiamare una certa attenzione. Un altro profumo del suo arsenale era un aroma atto a suscitare compassione che funzionava con donne di età media e avanzata. Sapeva di latte magro e di legno tenero scortecciato. Con esso Grenoy, anche quando si presentavano rasato con la faccia scura avvolto nel suo mantello, dava l'impressione di essere un povero ragazzo pallido con una giacchetta logora che bisognava aiutare. Le donne del mercato, quando avvertivano il suo odore, gli davano di nascosto le noci e pere, perché trovavano che avesse un'aria davvero affamata e indifesa e dalla moglie del macellaio, una vecchiaccia di per sé severa e inflessibile, Grenoy ebbe il permesso di scegliersi vecchi resti di carne puzzolente e pezzi di osso e di portarli via gratis, perché il suo profumo innocente commuoveva il cuore materno della vecchia. Con questi resti egli poi, facendoli macerare direttamente in alcol, fabbricò la componente principale di un odore che gli metteva addosso quando voleva stare solo ed essere evitato. L'odore gli creava attorno un'atmosfera di leggero disgusto, un sentore di marcio simile all'alito che proviene da vecchie bocche malandate al momento del risveglio. L'effetto era così potente che persino Druoth, non certo molto schizzinoso, doveva voltarsi immediatamente e andare all'aperto, senza ben rendersi conto di quello che l'aveva disgustato. E un paio di gocce del repellente, sparse sulla soglia della sua capanna, bastavano a tenere lontano ogni possibile intruso uomo o animale. Protetto da questi odori diversi, che cambiava come abiti a seconda delle esigenze esterne e che gli servivano per passare inosservato nel mondo degli uomini e per non far conoscere la sua natura, Grenoil si dedicò la sua vera passione, la raffinata caccia agli aromi. E poiché aveva in vista una meta importante ancora più di un anno di tempo, nell'affilare le sue armi, nel limare le sue tecniche, nel perfezionare gradualmente i suoi metodi, non procedeva con fervido zelo, bensì in modo pianificato e sistematico. Cominciò dal punto in cui aveva smesso quando lavorava da Baldini, cioè cercando di carpire gli aromi di cose inanimate, pietra, metallo, vetro, legno, sale, acqua, aria. Ciò che allora era miserabilmente fallito tramite il rosso procedimento della distillazione, ora riusciva grazie al forte potere di assorbimento dei grassi. Per un paio di giorni, Grenoil spalmò di sego di bue il pomello d'ottone di una porta, di cui gli piaceva l'odore che lo permea neva di muffa fresca. Ed ecco che quando raschio via il sego e lo analizzò, aveva proprio l'odore di quel pomello, in misura minima, ma inequivocabilmente chiaro. E persino dopo un lavaggio in alcol, l'odore era ancora presente, estremamente delicato, lontano, offuscato dall'esalazione dell'alcol e percepibile unicamente dal naso affinato di Grenoil, ma pur sempre presente, e cioè disponibile in linea di principio. Se avesse avuto diecimila pomelli e li avesse spalmati di sego per mille giorni, sarebbe riuscito a fabbricare una minuscola goccia di essence absolue dell'aroma del pomello d'ottone, così intenso che ognuno avrebbe potuto innegabilmente sotto il proprio naso avere l'illusione dell'originale. La stessa cosa gli riuscì con l'aroma poroso di una pietra calcarea che aveva trovato sull'uliveto davanti alla sua capanna. La fece macerare e ottenne una piccola quantità di pomata alla pietra, il cui odore infinitesimare lo rallegrò indescrivibilmente. Lo unì ad altri odori, estratti da tutti i possibili oggetti che si trovavano attorno alla sua capanna, e fabbricò a poco a poco un modello olfattivo in miniatura di quell'uliveto dietro al chiosco dei francescani, che poteva portare con sé chiuso in un piccolo flacone ed espandere quando voleva far rivivere l'odore. Erano virtuose acrobazie dell'arte profumiera, quelle che eseguiva, splendidi passatempi, che naturalmente nessuno tranne lui poteva apprezzare o anche soltanto riconoscere. Ma quanto a lui era affascinato dalle perfezioni assurde e né prima né dopo nella sua vita ci furono momenti di felicità davvero innocente come in quel periodo, in cui con zelo giocoso creò paesaggi, nature morte e immagini di singoli oggetti odorosi e ben presto passò ad esseri viventi, diede la caccia mosche invernali, larve, ratti, gattini appena nati e li annegò nel grasso caldo. Di notte si insinuava nelle stalle e per un paio d'ore avvolgeva vacche, capre, maialini in panni spalmati di grasso o li fasciava con bende oleose. Oppure si introduceva furtivo in un recinto di pecore per tosare in segreto un agnello e lavare poi la sua lana odorosa con alcol etirico. Dapprima i risultati non furono del tutto soddisfacenti, infatti diversamente dal pomello e dalla pietra gli animali erano molto rilluttanti a lasciarsi carpire il loro aroma. I maiali si strappavano le bende sfregandosi contro gli stipiti dei loro porcili, le pecore belavano quando lui di notte si avvicinava con il coltello, le mucche si ostinavano a scuotersi dalle mammelle e i panni spalmati di grasso. Alcuni coleotteri che trovò mentre stava per trattarli produssero secrezioni puzzolenti e i ratti sicuramente per paura cagarono sulle sue pomate, estremamente sensibili dal punto di vista olfattivo. Diversamente dai fiori, gli animali che tentava di macerare non cedevano il loro aroma senza un lamento oppure soltanto con un muto sospiro, ma rifiutavano disperatamente di morire. Non volevano a nessun costo essere spinti sotto con la spatola, si dimenavano e lottavano, producendo in tal modo quantità eccessive di sudore, di paura e di morte che con la loro iperacidità rovinavano il grasso caldo. Naturalmente così non si poteva fare un buon lavoro. I soggetti dovevano essere immobilizzati e così all'improvviso da non arrivare neppure ad avere paura e a opporre resistenza doveva ucciderli. Per prima cosa provò con un cagnolino davanti al mattatoio. Lo distorse dalla madre e lo attirò con un pezzo di carne fino al laboratorio e mentre l'animale, ansimando con gioiosa eccitazione, cercava di addentare la carne alla sinistra di Grenoil, quest'ultimo lo colpì seccamente alla nuca con un pezzo di legno che teneva nella mano destra. La morte sorprese il cagnolino così repentina che esso mantenne a lungo un'espressione di felicità attorno alla bocca e negli occhi anche quando Grenoil lo depose su una griglia tra due lastre spalmate di grasso nell'ambiente di profumazione dove poi cominciò a diffondere il suo profumo di cane puro non contaminato dal sudore della paura. Naturalmente bisognava stare attenti. I cadaveri così come i fiori recisi si guastano in fretta e così Grenoil montò la guardia accanto alla sua vittima per 12 ore circa finché si accorse che il corpo del cane emanava le prime esalazioni di decomposizione, in verità gradevoli ma adulteranti. Subito interruppe l'enflourage, tolse il cadavere e mise al sicuro il grasso lievemente profumato in un paiolo dove lo lavò con cura. Distillò l'alcol fino a ridurlo alla quantità di un ditale e con questo ricavato riempì una minuscola canula di vetro. Il profumo sapeva chiaramente dell'aroma umido, fresco e grasso della pelle del cane e continuò a mantenere quella aroma sorprendentemente forte e quando Grenoil lo fece fiutare alla vecchia cania del matattoio essa proruppe i nullulati di gioia e guai e non voleva più staccare le narici dalla canula. Ma Grenoil la tappò con cura, la prese e la portò con sé ancora a lungo a ricordo di quel giorno di trionfo in cui era riuscito per la prima volta a carpire l'anima odorosa a un essere vivente. Poi molto gradualmente e con estrema cautela si accostò agli esseri umani. Dapprima andò a caccia da una distanza di sicurezza con una rete a maglia larga perché gli importava non tanto fare grossi bottini quanto piuttosto sperimentare il suo metodo di caccia. Camuffato con il suo profumo leggero che non dava nell'occhio, una sera si mescolò agli ospiti della locanda Quatre Dufain e attaccò piccoli brandelli di stoffa imbevuti di olio e di grasso sotto i banchi e i tavoli e in nicchie nascoste. Qualche giorno dopo li raccolse e li esaminò. In effetti oltre a tutte le possibili esalazioni di cucina, odori di fumo, di tabacco e di vino, avevano assorbito anche un lieve odore umano ma esso restava molto vago e velato. Era più il sentore di un'esalazione generica che non un odore personale. Una simile aura di massa ma più pura e intensificata nel sublime sudaticcio si poteva trovare nella cattedrale dove Grenoy il 24 dicembre attaccò sotto i banchi i suoi straccetti di prova e li riprese il 26 dopo che non meno di sette messe vi si erano depositate sopra. Un orribile conglomerato di odori di sudore anale, sangue mestruale, popliti umidici e mani contratte, frammisto al respiro emesso da mille gole che avevano cantato in coro e snocciolato ave marie e alle esalazioni opprimenti dell'incenso e della mirra. Si erano condensato sugli straccetti impregnati, orribile nel suo addensamento nebuloso, privo di contorni, nauseante e tuttavia già inconfondibilmente umano. Il primo odore individuale, Grenoy, se lo procurò all'ospizio della charité. Riuscì a trafugare il lenzuolo destinato a essere bruciato di un garzone valigiaio appena morto di tisi, nel quale costui era stato avvolto per due mesi. Il lenzuolo era talmente impregnato dell'unto del valigiaio che aveva assorbito le sue esalazioni come una pasta di enflorage e si poteva sottoporre direttamente al lavaggio. Il risultato dette qualcosa di simile a uno spettro. Dal punto di vista olfattivo, sotto il naso di Grenoy, il valigiaio risuscitò dalla soluzione di alcol etilico e fluttuò per la stanza, anche se spettralmente alterato dal singolare metodo della riproduzione dai numerosi miasmi della sua malattia, ma tuttavia discretamente riconoscibile come immagine olfattiva individuale. Un uomo piccolo di 30 anni, biondo, col naso tozzo, gli arti corti, i piedi piatti simili a cera, il membro infiato, il temperamento bilioso e l'alito insipido. Non certo un bell'uomo dal punto di vista olfattivo, questo valigiaio non degno di essere conservato oltre come quel piccolo cane e tuttavia Grenoy lo lasciò fluttuare come spirito odoroso per una rotta intera nella sua capanna e continuò a fiutarlo felice e profondamente soddisfatto per il potere che aveva acquisito sull'aura di un altro uomo. Il giorno seguente lo gettò via. In quei giorni d'inverno fece un'altra prova. A una mendicante muta di passaggio in città diede un franco affinché portasse per un giorno sulla pelle nuda straccetti trattati con diverse misture di grasso e olio. Risultò che una combinazione di grasso di reni di agnello e di sego di porco e di vacca depurati più volte in proporzione 2, 5, 3 con l'aggiunta di piccole dosi di olio vergine erano la più adatta ad assorbire l'odore umano. Con ciò Grenoy si ritenne appagato. Rinunciò a impossessarsi di un essere umano vivo nella sua totalità e a utilizzarlo per carpigli il profumo. Una cosa simile sarebbe sempre stata rischiosa e non avrebbe procurato coniezioni nuove. Ora sapeva di possedere le tecniche per carpire l'odore di un uomo e non era necessario provarlo ancora se stesso. Inoltre l'odore umano di persegliere è indifferente. Con surrogati poteva imitare discretamente l'odore dell'uomo. Quello che voleva era l'odore di certi esseri umani e cioè le creature estremamente rare che ispirano l'amore. Queste erano le sue vittime. In gennaio la vedova Arnulfi sposò il suo primo garzone Dominique Druth che in tal modo fu promosso maître garantiere e parfumeur. Ci fu un gran pranzo per i maestri della corporazione e uno più modesto per i garzoni. Madame acquistò un materasso nuovo per il suo letto che ora condivideva ufficialmente con Druth e tirò fuori dall'armadio il suo guardaroba colorato. Per il resto tutto rimase come prima. Mantenne il buon vecchio nome di Arnulfi, mantenne il patrimonio indiviso, la condizione finanziaria della ditta e le chiavi della cantina. Druth adempiva quotidianamente ai suoi doveri sessuali e poi si rinfrescava col vino. E Grenoy, sebbene ora fosse primo e unico garzone, sbrigava il grosso del lavoro che sopravveniva con lo stesso salario esiguo, lo stesso vitto modesto e lo stesso misero alloggio. L'anno cominciò con la marea gialla delle cassie, con i giacinti, con la fioritura delle violette e con i narcotici narcisi. Una domenica di marzo, era trascorso forse un anno dal suo arrivo a Grasse, Grenoy si mise in cammino per andare a controllare lo stato delle cose nel giardino dietro il muro all'altro limite della città. Questa volta era preparato al profumo, sapeva molto bene quello che l'aspettava e tuttavia quando lo fiuttò già al Ponte Neuve, appena a mezza strada da quel punto accanto al muro, il cuore gli batte più forte e sentì che il sangue gli guizzava nelle vene dalla felicità. C'era ancora! La pianta incomparabilmente bella aveva superato dunque l'inverno, era in succhio, cresceva, si espandeva, buttava splendide infiorescenze. Il suo profumo, come si era aspettato, era diventato più intenso senza perdere in finezza. Ciò che ancora un anno prima si era diffuso con delicatezza a spruzzi a gocce, adesso si era quasi composto in un fiume d'aroma lievemente pastoso, che si irradiava di mille colori e tuttavia fissava ogni tonalità e non la lasciava più fuggire. E questo fiume, Costa Stora, Giante, Grenoy, si alimentava da una fonte sempre più rigogliosa. Un anno ancora, soltanto un anno, soltanto dodici mesi ancora e questa fonte sarebbe traboccata e lui sarebbe tornato a catturare il getto impetuoso del suo profumo. Corse lungo il muro, fino al punto conosciuto dietro a cui si trovava il giardino. Sebbene la fanciulla non fosse evidentemente in giardino, bensì in casa, in una stanza dietro a finestre chiuse, il suo aroma aspirava verso il basso come una lieve brezza, ininterrotta. Grenoy stava completamente immobile. Non era inebriato, stordito come la prima volta che l'aveva sentito. Era colmo del sentimento di felicità dell'amante che spia o contempla la sua dorata da lontano e sa che verrà a prenderla tra un anno per portarla con sé. È vero, Grenoy, la zecca solitaria, il brutto, il mostro Grenoy, che mai aveva provato amore e mai avrebbe potuto ispirare amore, quel giorno di marzo stava accanto alle mura della città di Grasse e amava e il suo amore lo rendeva profondamente felice. Non amava certo un essere umano, non certo la fanciulla della casa dietro il muro. Amava il profumo. Solo quello e nient'altro e quello soltanto perché sarebbe stato il suo. Sarebbe tornato a prenderlo fra un anno, lo giurò, sulla sua vita e dopo averlo fatto, questo strano voto o promessa di fidanzamento, dopo questa promessa di fedeltà a se stesso e al suo futuro profumo, lasciò il luogo con animo lieto e rientrò in città attraverso la porta du coeur. La notte, steso nella sua capanna, ancora una volta richiamò il profumo dalla memoria, non poter esistere alla tentazione, e si immersa in esso, lo accarezzò e se ne lasciò accarezzare, così intimo, così favolosamente vicino, come se già lo possedesse realmente il suo profumo, il suo profumo personale e lo amò in sé e amò se stesso in lui in un prezioso momento d'ebbrezza. Voleva portarsi nel sonno questo sentimento, questo innamoramento di sé, ma proprio nel momento in cui chiuse gli occhi e già al prossimo respiro si sarebbe assopito, esso lo abbandonò. D'un tratto era scomparso e in sua vece nella stanza c'era l'odore acre e freddo della stalla delle capre. Grenoyle sussultò. Che cosa avverrà? Pensò. Se questo profumo che sarà mio, che cosa avverrà quando finirà? Non è come nella memoria, dove tutti i profumi sono immortali. Quello reale si consuma nel mondo, è fugace e quando si sarà esaurito la fonte da cui l'ho preso non esisterà più e io sarò nudo come prima e dovrò arrangiarmi con i miei surrogati. No, sarà peggio di prima perché nel frattempo l'avrò conosciuto e posseduto il mio splendido profumo personale e non riuscirò a dimenticarlo perché non dimentico mai un profumo e dunque vivrò tutta la vita del ricordo che ne ho, come già adesso. Per un momento ho vissuto del ricordo anticipato di lui che sarà mio. A che cosa mi serve dunque? Questo pensiero fu estremamente spiacevole per Grenoyle. Lo spaventava moltissimo l'idea di dover inevitabilmente perdere il profumo che ancora non possedeva quando l'avesse posseduto. Per quanto tempo sarebbe durato? Qualche giorno? qualche settimana? Un mese forse? E se l'avesse usato con estrema parsimonia e poi? Si vedeva già versare l'ultima goccia della bottiglia, sciacquare il flaccone con l'alcol etilico affinché neanche un minimo residuo andasse perduto e poi vedeva, sentiva che il suo amato profumo si leguava irrimediabilmente per sempre. Sarebbe stato come un lento morire, come una sorta di asfissia alla rovescia, uno straziante graduale evaporare del suo sé nell'orribile mondo. rabbrividì. Fu sopraffatto dal desiderio di uscire nella notte e di andarsene. Sui monti innevati voleva andare senza fermarsi a cento miglia di distanza nell'uverne e la strisciare nella sua vecchia caverna e dormire fino alla morte. Ma non lo fece. Rimase dov'era e non cedette al desiderio, sebbene fosse forte. Non gli cedette, perché era un suo vecchio desiderio andarsene e rinchiudersi in una caverna. Lo conosceva già. Quello che non conosceva era il possesso di un profumo umano, un profumo stupendo, come quello della fanciulla dietro il muro. E anche se sapeva che avrebbe dovuto pagare un prezzo terribilmente alto per il possesso di questo profumo e la sua perdita, tuttavia il possesso e la perdita gli sembravano più degni di essere desiderati che non la secca rinuncia a entrambi. Poiché sempre aveva rinunciato a qualcosa, ma mai aveva posseduto e perso qualcosa. A poco a poco i dubbi svanirono e con essi anche i brividi di freddo. Sentì che il sangue caldo lo rianimava e la volontà di fare ciò che si era proposto riprendeva possesso di lui. Ed era una volontà ancora più forte di prima, poiché adesso non derivava più da un puro desiderio, bensì anche da una decisione ponderata. La zecca Greneu, messa di fronte alla scelta se disseccarsi o lasciarsi cadere, si decise per la seconda ipotesi, ben sapendo che questa caduta sarebbe stata l'ultima. Si stese di nuovo sul giaciglio, piacevolmente nella paglia, piacevolmente sotto la coperta e si sentì molto eroico. Ma Greneu non sarebbe stato Greneu se si fosse accontentato a lungo di un sentimento di eroico fatalismo. Era dotato di una volontà d'autoaffermazione troppo tenace, di una natura troppo scaltra e di uno spirito troppo raffinato per farlo. Bene, aveva deciso di possedere quel profumo della fanciulla dietro il muro e se l'avesse perso dopo qualche settimana e fosse morto per la perdita, bene anche così. Ma sarebbe stato meglio non morire e tuttavia possedere il profumo o comunque di ferire la sua perdita per quanto possibile. Bisognava conservarlo, bisognava eliminare la sua fugacità senza privarlo del suo carattere. Un problema da profumiere. Esistono profumi che durano decenni. Un armadio strofinato con muschio, un pezzo di cuoio imbevuto d'olio di cannella, uno gnocco d'ambra, una cassettina di legno di cedro, mantengono l'odore quasi in eterno. Altri invece, l'olio di limoncello, bergamotto, estratti di narciso di tuberosa, si dileguono già dopo qualche ora se sono esposti all'aria puri e liberi. Il profumiere affronta questa fatale circostanza quando vincola i profumi troppo volatili con quelli duraturi, cioè impone a essi per così dire delle catene che nei regoli non l'impulso di libertà. In tal caso, l'arte consiste nell'allentare le catene quel tanto che basta perché il profumo vincolato mantenga in apparenza la sua libertà e nello stringerle quel tanto che basta perché il profumo non possa svanire. Una volta, Grenoy era riuscito a eseguire alla perfezione questo pezzo di bravura con l'olio di tuberosa, incatenando il suo profumo effimero con l'aggiunta di piccole quantità di zibetto, di vaniglia, di laudano e di cipresso. E solo in tal modo era riuscito a renderlo veramente efficace. Perché non doveva essere possibile qualcosa di simile anche con il profumo della fanciulla? Perché avrebbe dovuto usare e sprecare questo profumo il più prezioso e delicato di tutti allo stato puro? Che sistema grossolano! straordinariamente rozzo. I diamanti si lasciano forse grezzi? L'oro si portava forse a pezzi intorno al collo? E lui, Grenoy, era forse un primitivo rapinatore di sostanze aromatiche come Druot o come gli altri maceratori, distillatori e torchiatori di fiori? O non era invece il più grande profumiere del mondo? Si battè in testa inorridito per non esserci arrivato prima. Naturalmente questo profumo unico non si doveva usare allo stato grezzo. L'avrebbe incastonato come la più preziosa delle gemme, avrebbe forgiato un diadema profumato in cui il suo profumo, più in alto di tutti, vincolato da altri profumi e nel contempo su essi dominante avrebbe diffuso suo splendore. Avrebbe creato un profumo secondo tutte le regole dell'arte e il profumo della fanciulla dietro il muro ne avrebbe rappresentato il cuore. Naturalmente come coadiuvanti, come nota di base, di centro e di testa, come aroma di punta e come fissatore non erano adatti nel muschio, nello zibetto, nell'olio di rose, né quello di neroli. Per un profumo simile, per un profumo umano, gli occorrevano altri ingredienti.